Giura al Quirinale la neoministra della famiglia Alessandra Locatelli, fedelissima di Salvini, educatrice specializzata nella cura di persone affette da gravi disabilità psichiche. Le sue priorità è il supporto alle famiglie e ai soggetti più deboli. Perché tutti debbano avere un'inclusione nel mondo della vita quotidiana intera. Non bisogna lasciare indietro nessuno e questo è uno dei punti fondamentali anche della nostra Costituzione. Deputata alla prima legislatura e stata vice sindaco di Como ha fatto discutere una sua ordinanza contro l'accattonaggio che vieta senza tetto e a chi chiede le lemosina di stazionare in centro e di distribuire cibo e clochara ai portici di San Francesco. In prima linea in tutte le battaglie della Lega contro ONG e migranti Locatelli è stata volontaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Nigeria nelle missioni dell'Opera Donguanella.